È stato un inizio in siccità perché il fiume era molto basso, al limite della navigazione come gli anni scorsi, però sufficiente per navigare perché questa è la portata, è un tema importante che abbiamo anche trattato più volte con la vostra TV, delle derivazioni e comunque il fiume è bello, rigoglioso, l'acqua, il tempo è stato un po' inclemente per quanto riguarda le temperature, però la nostra struttura è attrezzata. Il grande fiume lega indissolubilmente la sua storia a quella delle genti, che lo vivono da sempre. Fonte di vita, appunto, ricchezza, sostentamento e a volte fonte di preoccupazioni, paure e disastri. La Brenta è oggi una vetrina di grande importanza per il territorio. Un modo di conoscere la Val Brenta è quel che la circonda dall'Altopiano al Grappa e giù fino a Bassano e alla Pedemontana, tramite l'acqua. Noi siamo concentrati sul mondo della scuola, siamo un ente di formazione riconosciuto dal Ministero per gli insegnanti e siamo un punto di riferimento per le attività didattiche, ricreative e sportive. Abbiamo avuto tantissimi ragazzi, circa 170 istituti in questo periodo, che vanno dalle Marche al Piemonte, al Alto Adige e al Friuli. Migliaia di studenti da tutta Italia visitano ogni anno la zona e la stagione estiva si presta particolarmente ad approfondire il rapporto con i grandi fiume. Con il divertimento si impara, con qualche brivido supplementare dovuto all'acqua e all'adrenalina. Siamo pronti per la stagione estiva dopo scuola, per i centri estivi, le parrocchie, i grest e anche numerosi nostri ospiti che vorranno venire al nostro centro per fare i rafti, visitare le grotte di Oliero e tutto il territorio della Val Brenta.